Ehi ragazzi, ehi ragazze, come state? Lo spazio vi stressa? Vostra moglie, vostro marito vi rompono i palloni e i vostri figli sono insopportabili, non vi ascoltano, al lavoro non ne potete più e avete accumulato un sacco di stress, stress, stress. Non vi preoccupate perché qui alla stazione spaziale abbiamo la clinica dei massaggi sensoriali ASMR, massaggi sensoriali sonori che vi toglieranno di dosso tutto lo stress accumulato in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Andate a provare la clinica del massaggio sensoriale, la prima sessione è gratuita, non fatevi scappare l'occasione di provare il miglior massaggio sensoriale ASMR della vostra vita. Benvenuto al centro massaggi sensoriali ASMR della stazione Alfa. In questo centro troverai tutti i massaggi sensoriali ASMR che ti aiuteranno a rilassarti e a ricaricare le energie che hai perso a causa dello stress. Per favore, segui l'operatore che ti accompagnerà nella stanza del massaggio. Salve, sono l'operatore ASAP, mi prenderò io cura di lei, prego se siete qui davanti. Mi dia gli occhiali. Li metterò in questa graziosa borsetta. Sa di cosa è fatta? È fatta di sughero trattato, in modo che si trasformi in un tessuto malleabile, lo vede? Mi dia gli occhiali per cortesia. Adesso le darò le cuffie per una migliore immersione. Prego. Ora accenderò un incenso di Marte. E' tra i più buoni della galassia per il rilassamento. Si concentri sul fumo che vede. Il fumo che scorre, scorre via, come le sue preoccupazioni e i suoi pensieri. Adesso utilizzerò il cristallo di Venere. E' un cristallo dà le proprietà fantastiche. Cambia colore. Cambia intensità di colore man mano che lo tocco. Vede? Adesso è un po' più spento. E adesso si illumina di più. Lo vede? Sente le vibrazioni. Sente le vibrazioni. Ora utilizzerò il diapason del pianeta Nettuno. Questo sono sicuro che ce l'avete anche sul pianeta Terra. Come si sente un pochino meglio? Sente le vibrazioni. 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 Adesso utilizzerò la campana di Giove, l'ha mai vista, è di oro massiccio. Grazie a tutti. 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 Ora utilizzerò la campana col diapason contemporaneamente per raggiungere il climax del rilassamento e del relax. Ecco qua. La sessione è finita. Come si sente? Si sente bene? Molto rilassato e tranquillo? Bene, bene, bene. Mi dia le cuffie per cortesia. Adesso le do i suoi occhiali. Prego, mi scusi, mi scusi, gli ho fatto cadere gli occhiali. E' molto bella questa borsetta, è molto bella questa borsetta, vero? Ne vuole una. La vendono la vendono allo spazio sotto al piano 7G. è bella, è bella, è bella, è realizzata a mano. Dunque, se lei è soddisfatto di questo trattamento, può seguire gli altri trattamenti che sono riportati in questi video. video di triggers molto molto rilassanti, gli dia un'occhiata. E con questo è tutto. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video rilassante.